Procediamo in questa presentazione, io parlo a nome del mio gruppo, appunto abbiamo lavorato insieme a Maria Cristina, Antonio, Diana che è vostra concittadina, quindi ci ha aiutato a scoprire Colle Valdelsa e ragazzi della facoltà di agribusiness di Siena. Il nostro tema è stato appunto il paesaggio e le reti e questa è una delle immagini, una delle fotografie del nostro sopralluogo, ci siamo molto, come dire, immersi nella natura di Colle Valdelsa per cercare di identificare delle tracce che potessero essere poi il motivo di sviluppo di una nuova transizione culturale che appunto stiamo cercando con questo progetto. Questi sono un po' i temi che ci sono stati assegnati, quindi l'indagine sulla condizione degli alberi in città, ovvero quali spazi possono essere nel futuro, come dire, implementati con la messa a dimora di nuove alberature, quindi come andare a pareggiare quella quantità di foreste equivalente di cui ci parlava prima Riccardo. Il sistema delle gore che è un sistema che tutti voi qui conoscete e che noi volevamo proprio ripercorrere nel suo percorso visibile e invisibile e poi un altro tema, gli edifici dismessi che sono diventati poi il volano appunto di questa nostra idea, quello che ha tenuto un po' insieme l'idea e la visione verso appunto questa transizione. Questo un po' un quadro di quelle che sono state le criticità individuate durante i nostri sopralluoghi riguardo alla prima tematica, quella degli alberi in città. Abbiamo notato come ci sono spazi effettivamente che potrebbero essere oggetto di una riforestazione urbana, come ad esempio il versante al sud lungo la città vecchia, quindi Colle di sopra. Abbiamo visto come esistono numerosi parcheggi completamente asfaltati, in questo caso si vede benissimo come questo parcheggio diventa quasi un'isola di asfalto all'interno di un bosco. Colle è fortunata perché è ricca di boschi, è ricca di un ecosistema che occupa la città. Invece su vediamo strade e piazze che sono state private appunto di alberature e aree in trasformazione in pieno centro città. Il sistema delle gore l'abbiamo come vi dicevo percorso interamente, siamo passati appunto, abbiamo attraversato tutte le strade interessate dal percorso delle gore visibile e invisibile e quindi abbiamo ripercorso tutta la gore di piazza e la gore di spugna, arrivando fino a dove le gore poi sfociano nel fiume Elsa e abbiamo registrato che effettivamente il sistema delle gore ha un non collegiano appare invisibile perché è molto spesso nascosto, addirittura in alcuni episodi dove è interessante guardarlo, apprezzare insomma questo corso d'acqua così particolare ci sono delle staccionate chiuse quindi non è possibile neanche affacciarsi. Ci sono casi appunto come la nuova piazza Arnolfo in cui le gore sono state in qualche modo evidenziate però in maniera propria ci siamo domandati ecco quindi questo è stato un po' la nostra indagine e poi l'ultimo tema appunto gli edifici dismessi, questa esplorazione quasi archeologica di archeologia industriale ci ha visti un po' esploratori dell'area nord soprattutto dove abbiamo individuato effettivamente tantissimi edifici legati a questo sistema delle gore e attualmente in via di dismissione e quindi abbiamo ipotizzato e vedete sono localizzati soprattutto nell'area nord qualcuno interessa anche il tracciato delle gore ma ce ne sono veramente sporadici perché molti sono stati poi restaurati e hanno cambiato anche destinazione d'uso diciamo ancora una volta endevolendo il senso forse del sistema ecco della riconoscibilità di questo sistema e questo un po' l'idea generale di questi tre sistemi mezzi sovrapposti quindi noi ci immaginiamo di riconnettere questo sistema verde della che interessa con le alta con il sistema interessantissimo del parco fluviale dell'alta val d'elsa e ovviamente i lavori i gruppi hanno lavorato in sinergia quindi vedete come l'attraversamento a nord che di cui parlava prima leonora diventa anche cruciale nel nostro sistema perché si viene a configurare come un vero e proprio corridoio verde che ci consente appunto di arrivare sull'elsa e prevedere sull'elsa anche ulteriori percorsi che connettono il percorso pedonale attuale esistente abbiamo anche evidenziato come l'asse verde entra in città e come questi sistemi appunto delle gore e della ora vedremo della dell'agricoltura di prossimità interferiscono tra loro questi sono i tre temi appunto nella loro visione progettuale della forestazione urbana ve ne ho appena parlato il sistema delle gore diventa per noi un sistema da mettere in evidenza e noi ci immaginiamo abbiamo ipotizzato di dar vita a un nuovo museo diffuso delle gore che potrebbe anche entrare a sistema con altri musei diffusi anche toscani come ad esempio la via della carta e quindi perché non essere interessato da questo tipo di intervento e ovviamente entrare a far parte anche del sistema del parco fluviale della alta val d'elsa l'agricoltura di prossimità e ci tengo a sottolineare la u di cultura è un è quello che ha tenuto assieme un po la nostra idea ci immaginiamo nella parte nord del centro qualcosa di vivo qualcosa che mette in luce come questa transizione culturale possa riguardare al passato per proiettarlo nel futuro e l'abbiamo appunto chiamato polo dell'agricoltura e questo qui sarà appunto il cervello che poi diffonderà diciamo gli input anche in tutta la città ci immaginiamo appunto di ospitare un orto didattico anche nell'area nell'area del centro di colle val d'elsa questo nel dettaglio i temi questa è la forestazione urbana queste sono alcune delle parole chiavi vediamo appunto sviluppo economico qualità dell'area dell'acqua riduzione dell'isola dell'effetto isola di calore che sarà uno dei primi vantaggi percepiti in tal senso miglioramento dei servizi ecosistemici ed educazione e altro questo un po quello che ci immaginiamo di interessare con questa nostra visione abbiamo seguito un po quello che i ragazzi del primo gruppo hanno ipotizzato riguardo alla viabilità quindi le nostre alberature stradali si impostano sulla loro progettazione di pedonalizzazione dell'area e questa è un po una proiezione al 2050 quindi noi ci immaginiamo di avere nel 2050 delle foreste mature in grado appunto di stoccare co2 e della dimensione di circa 20 ettari per l'area di interesse del nostro progetto questi alcuni esempi alcune suggestioni come questo parcheggio in asfalto può essere trasformato in qualcosa di più sostenibile questo è un esempio appunto di come la superficie asfaltata la superficie impermeabile può diventare drenante può ospitare anche ovviamente la messa a dimora di alberature questo invece è un esempio su strada lì siamo a londra ma non siamo tanto distanti da colle val d'elsa questo invece è un esempio a doppio senso diciamo così sono le alberature in piazza c'è rimasto solo un cedro ma prima la piazza era molto alberata quindi domanda provocatoria si potrà tornare indietro potremo tornare a quella figura a quella immagine storica il sistema delle gore ci ha molto ispirato è stato veramente il collante di questa idea ed è diventata la cerniera del del nostro progetto della nostra proposta ovviamente nel sistema delle gore parole chiavi come il riuso dell'acqua e le energie rinnovabili tornano abbastanza attuali la memoria anche la il valore appunto testimoniale di questo di questa infrastruttura che c'è e che questa infrastruttura che nel tempo si è autoprotetta perché il fatto stesso di esserci non ha consentito che sopra ci si realizzasse qualcosa di impattante invasivo quindi è stato un un auto vincolo che si è imposto il sistema quindi questa questo aspetto lo abbiamo molto apprezzato e ovviamente è un'infrastruttura che messa rimessa in funzione potrebbe garantire di produrre energia noi ci immaginiamo un'energia di prossimità ecco in una visione utopica però noi vogliamo credere anche possibile questo è un po' lo schema di questo museo diffuso delle gore vedete tratteggiati i punti in cui le gore non sono visibili con linea continua invece lì dove sono visibili e poi vedete segnati con dei cerchi neri i salti i salti corrispondono appunto agli edifici industriali che utilizzavano questa energia per far funzionare i propri macchinari e molto spesso sono stati appunto come vi dicevo prima trasformati noi ci immaginiamo di ospitare in uno di questi edifici il museo appunto delle gore abbiamo ipotizzato nell'ex cartiera della buca e di utilizzare ad esempio il salto che si trova in via vecchia maremmana per poter alimentare un nuovo orto didattico che è vicino alle scuole lì vicino riaprire il lavatoio trasformare il passaggio in piazza Arnolfo in veri e propri giochi d'acqua quindi utilizzare le gore per alimentare dei giochi d'acqua e alimentare con il salto alla fabbrichina questo nuovo parco agroalimentare che ce lo immaginiamo anche come un parco di trasformazione delle materie prime queste sono alcune suggestioni potrebbe diventare questo potrebbe trasformarsi in questo oppure lì dove le gore sono invisibili sono interrate potremmo suggerire a un visitatore che appunto visita per la prima volta colle qualcosa che è sottostante ma si sente poi è un'infrastruttura che ecco si sente alludito e percepibile ecco e qui invece abbiamo riportato uno studio che abbiamo trovato recuperato del 1932 questo è un rilievo del genio civile che in quell'occasione ha appunto registrato le altezze di questi salti e la potenza dei macchinari al 1932 questo dato ci ha consentito di avere una stima ipotetica cioè una stima reale a quel tempo ipotetica ora perché ora non sappiamo quanto la portata dell'acqua potrebbe garantire la stessa potenza ma allo stesso tempo siamo consapevoli che la tecnologia è andata avanti quindi probabilmente questo numero può essere tenuto per buono e quindi questo è il dato che abbiamo poi passato ai nostri colleghi che poi vi faranno vedere quanto sostenibile può essere reintegrare questo sistema in colle val d'elsa e poi abbiamo l'ultimo appunto nostro tema l'agricoltura di prossimità dove l'educazione ambientale alimentare abbiamo visto quanto anche anche questo aspetto influisca sul consumo appunto di co2 e diventano punto nevralgico quindi noi ci immaginiamo appunto di sensibilizzare la comunità di val d'elsa con di colle val d'elsa con un intervento appunto un cervello che possa dare questi input quindi produrre cultura cura della terra cura delle persone quindi questi erano un po i messaggi chiavi che abbiamo cercato di mettere in luce e questo un po il sistema ovvero nella nell'ex fabbrichina ci immaginiamo di ospitare un mercato agroalimentare probabilmente anche per la viabilità potrebbe essere abbastanza fattibile abbiamo ci siamo confrontate con il gruppo della mobilità e questa cosa è saltata all'occhio ovviamente questo nuovo polo diventa viene connesso con l'area a est attraverso questo nuovo ponte pedonale che però in realtà sorgerebbe laddove abbiamo notato ci sono i piloni di un vecchio ponte quindi come dire il passato che ritorna e si proietta nel futuro ancora una volta e appunto sulla sinistra rispetto al percorso ciclopedonale che attraversa la città ci immaginiamo questo polo dell'agricoltura bike sharing e mediateca e quant'altro nella parte in basso come vi dicevo questo questo ex cartiera ospiterà appunto e lo spazio di questo ex cartiera ospiterà un orto didattico noi già abbiamo iniziato a vivere con le valdelsa in tal senso quindi abbiamo già preso un primo caffè sotto il ponte dove ci è venuta questa suggestione qui siamo a Zurigo un intervento anche di diversi anni fa appunto il sottoponte è stato riutilizzato per delle attività commerciali e quindi è un luogo non più un luogo come invece si presenta adesso queste sono alcune suggestioni invece nell'area dell'ex fabbrichina quindi questa questa foto qui è stata scattata in quella che ci hanno raccontato è stata un'industria che produceva gesso e ci piaceva insomma immaginare qualcosa di industriale rivisitato in tal senso questa invece è appunto una visione del mercato all'interno che potrebbe essere ospitato in questi volumi e qui siamo nell'orto appunto questo orto didattico in quest'area che appunto lì in via vecchia maremmana e che vede come sfondo questo bellissimo muro verde che insomma anche patrick blanc invidierebbe ai colligiani e questo un po il riassunto di quanto vi ho spiegato finora quindi vedete qui messi a sistema tutti tutto il racconto che vi ho fatto e passo la parola alla mia collega lorenza che vi spiegherà invece la fase successiva